Buongiorno a tutti, nel video di oggi parlo di due libri brevi ma intensi come la tradizione si tratta di un classico e di un classico moderno diciamo e partirei proprio da quest'ultimo il primo libro che vi voglio presentare è questo libricino qui La Corte del Diavolo di Ivo Andrich, come vedete molto sottile Ivo Andrich scrittore abbastanza famoso secondo me perché ha vinto il premio Nobel per la letteratura quindi è probabile che l'abbiate sentito nominare anche se non conosco tante persone che l'hanno effettivamente letto Ivo Andrich è uno scrittore di lingua serbo-croata nato in quella che è l'odierna Bosnia quindi in questo territorio balcanico aperto agli scambi culturali e alla compresenza di diverse culture all'interno di uno stesso ambiente la sua opera principale e più conosciuta è Il Ponte sull'Adrina che racconta appunto la storia di una comunità attraverso i secoli comunità sospesa tra l'impero ottomano e l'impero austro-ungarico il confine tra questi due mondi si può dire scorreva proprio sul fiume Drina le cui sponde erano collegate da appunto da questo ponte e Ivo Andrich racconta la storia di questa comunità appunto che viveva intorno a questo ponte nel corso dei secoli libro ovviamente interessantissimo scritto molto bene pieno di storie arriviamo però alla corte del diavolo libro del 1954 che penso possiate trovare in commercio anche con la traduzione del titolo Il cortile maledetto cos'è la corte del diavolo? la corte del diavolo è il nome che Andrich dà a una prigione dell'impero ottomana situata nei dintorni di Istanbul anche qui come ponte sull'adrina vediamo appunto lo svolgersi della storia in una comunità chiusa lì era la comunità che vive intorno al ponte tutte le storie erano interne a quella comunità e qui Ivo Andrich ci racconta una storia che si svolge all'interno di un luogo chiuso cosa c'è di più chiuso di una prigione tra l'altro la descrizione fa ben capire che la sensazione dall'interno della corte del diavolo era quella di trovarsi assolutamente isolati proprio su un'isola quindi un perfetto universo chiuso in cui ambientare una vicenda la prigione è sorvegliata dal suo direttore Karagos non so pronunciare il turco quindi lo pronuncerò così e appunto una figura molto inquietante che ha una sua filosofia sull'innocenza e la colpevolezza più sulla colpevolezza perché questo losco figuro appunto ritiene che tutti gli uomini siano colpevoli anche se non tutti vengono imprigionati questo libricino di Andrich è una storia sulle storie un po' secondo me nel senso che i personaggi continuano a raccontare delle vicende appunto legate alla loro vita in particolare abbiamo i personaggi di Fra Peter un frate appunto e di Chamil ma anche di tanti altri personaggi che appartengono a culture diverse appunto dal mondo cristiano a quello islamico a quello ebraico tipica appunto della letteratura balcanica è far vedere questo incontro tra le diverse culture e Andrich è un maestro di questo non solo nel Ponte sull'Adrina che alla fine seguiva un po' lo stesso schema quindi cristianesimo e islamismo legati in una storia di questo ambiente chiuso stessa cosa nella Corte del Diavolo in formato un po' più piccolo e con tempi un po' più stretti perché la storia ovviamente qua non copre l'arco dei secoli ma copre l'arco di alcune vite umane perché consiglio questo libro? perché intanto Ivo Andrich è uno scrittore capacissimo ovviamente non devo dirlo io gli ha dato il premio Nobel per un motivo è uno scrittore capacissimo però di arrivare con lucidità al cuore dei problemi di metterli là con le parole giuste lasciando poi al lettore le sue riflessioni e sono delle riflessioni che hanno a che fare ovviamente con l'identità con la diversità con colpa e innocenza che anche in questi nostri tempi attuali sono assolutamente da tenere in considerazione cioè Ivo Andrich è capace di racchiudere in una storiella abbastanza breve tutti quei temi, tutti quei problemi con cui ci dobbiamo scontrare ogni giorno riguardo a politica, società, ma anche alla nostra vita individuale e lo fa appunto non prendendoli di petto ma raccontandoti una storia una storia che porta lontano ma che in realtà parla di te quindi Ivo Andrich recuperatelo soprattutto il Ponte sulla Grina però se volete avere un assaggio della scrittura di Andrich vi consiglio di partire da questa corte del diavolo il secondo libricino di cui vi parlo è La Confessione di Tostoi libro che consiglio non lo so nel senso che a me non ha fatto impazzire ma perché io con Tostoi posso solo litigare nonostante questo continuo a leggerlo perché comunque è un grande scrittore perché ha influenzato moltissimo il pensiero russo dell'ultimo secolo e mezzo anche quello sovietico e si vede secondo me da questo libriccino per quale motivo però io sono sempre abbastanza in disaccordo con questo scrittore nonostante questo mi va di parlarne perché anche qui si toccano diversi temi molto molto interessanti e si va a scavare un po' nella vita di Tostoi stesso La Confessione di Tostoi è un libriccino che racconta il percorso di fede di Liev Tostoi chiedo con punto di domanda perché di fede secondo me non c'è tantissimo all'interno di questo libro ma andiamo un attimo con ordine Tostoi racconta appunto tutto il suo percorso racconta di essere stato battezzato e cresciuto ovviamente nella fede ortodossa di essersene poi distaccato come avviene a molti che vedono che la religione e la vita non hanno poi più niente in comune e racconta di come poi questo distacco gli abbia causato una grande crisi perché non riusciva più a trovare un senso nella vita a questo punto lui si è rivolto alla conoscenza scientifica alla conoscenza umanistica ma visto che tutte queste discipline non erano in grado di dare delle risposte ai suoi interrogativi sulla vita sul senso della vita su chi siamo, dove andiamo, da dove veniamo finché non ha guardato la vita degli uomini di fede vedendo che loro erano assolutamente soddisfatti e che a quanto pareva loro possedevano questo senso della vita non parla tanto degli uomini di fede nel senso dei grandi ecclesiastici quanto piuttosto del popolo, dei contadini che sembravano appunto incapaci di vivere senza la loro fede nonostante a Tastoi dessero fastidio poi tutte le superstizioni legate alla fede e io vi avverto che lui chiama superstizioni delle cose tipo i sacramenti che sono superstizioni per la fede cattolica ed è cattolica, scusate, cristiana poi qua si parla di ortodossia ma si parla anche di cattolicesimo insomma Tastoi poi della fede cristiana non vanno giù le divisioni nel senso che non si spiega come questa verità che dovrebbe darti un senso abbia al suo interno queste divisioni e ognuna delle confessioni cristiane dica di possedere la verità quando è ovvio che la verità non può essere triplice ora, io non mi capacito di come la persona che ha scritto Guerra e Pace possa aver scritto un libretto del genere nel senso che Tastoi sembra ignorare completamente l'esistenza del male nel mondo non ignorarla nel senso che non lo sa ma ignorarla nel senso che la disconosce cioè dice non è possibile che ci sia e quindi non è possibile che quando io ho trovato la fede che riesce a dare un senso alla mia vita all'interno delle persone di fede ci siano delle persone malvagie ci siano delle divisioni e delle contraddizioni e la cosa mi lascia perplessa cioè il problema del male di da dove viene di che cos'è appunto attanaglia filosofi, teologi e persone comuni dall'inizio dei tempi quindi mi pare molto ingenuo da parte sua disperarsi non tanto perché non sa come risolvere il problema ma disperarsi perché il problema esiste per me è abbastanza assurdo dopodiché mi lascia anche perplesso il modo in cui lui è arrivato alla fede lui è arrivato alla fede secondo un suo bisogno di avere qualcosa che desse senso e tant'è che lui dice che per lui la fede non è un rapporto con Dio con Cristo non è tutto quello che si dice ma è qualcosa che dà senso alla vita e che tra l'altro lui non crede nemmeno alla risurrezione ora pensare che la fede cristiana dia senso alla tua vita senza credere nella risurrezione è abbastanza particolare per quanto mi riguarda e anche il suo modo di arrivare alla fede è abbastanza particolare perché lui va a cercarsela cioè non è che si trova a tu per tu con Dio diciamo e quindi con qualcosa in cui credere qualcosa con cui parlare qualcosa che lo sostiene ma va a cercarsela proprio da non credente e anche questo mi lascia un pochino perplessa sull'approccio soprattutto perché va bene la fede cristiana ma se non credi alla risurrezione le basi le basi dove sono tra l'altro appunto lui si avvicina a questa fede cristiana a questa religione a questo punto perché non si può parlare di fede alla religione cristiana per trovare un senso e sentite qual è il senso che trova dice questo senso seppure lo si può esprimere in parole è il seguente ogni uomo viene al mondo per volontà di Dio e Dio ha creato l'uomo in modo tale che ognuno può perdere la propria anima o salvarla il compito dell'uomo nella vita è salvare la propria anima e per salvarla è un po' ridicolo e adesso vi spiego perché e per salvarla bisogna vivere secondo la volontà di Dio e per vivere secondo la volontà di Dio bisogna rinunciare a tutti i piaceri della vita allora capisco che era l'ottocento capisco che la storia va in campagna capisco tante cose ma non so neanche da dove cominciare da tanti errori secondo me ci sono in questo paragrafo tolto che la fede poi è una cosa personale quindi ognuno se la vivrà e se la percepirà come meglio crede ma il fatto che tu debba salvare la tua anima come se Dio non fosse salvatore nella religione cristiana cioè per il cristianesimo Dio è il tuo salvatore non sei tu che ti devi salvare tu sei già potenzialmente salvato devi accettare la salvezza non devi salvarti la tua anima e com'è che te la devi salvare rinunciando a tutti i piaceri della vita quindi per me a tastoi mancano le basi ma perché è andato a complicarsi la vita lui stesso tant'è che questo libretto finisce con un tastoi non troppo convinto del punto a cui è arrivato un tastoi che si mette a studiare per quanto suo le sacre scritture per cercare di venire a capo di tutti i problemi posti peccato che senza fede senza risurrezione difficilmente risolverai i problemi teologici non nel senso che solo i credenti possono studiare la teologia ma nel senso che dal punto di vista religioso la tua vita non riuscirà a uscirne a fare quello scatto in più senza determinate basi secondo me questo la lettura di questo libricino mi ha fatto pensare a quello che diceva Berdiaev nel suo libricino che vi consiglio che è la concezione di Dostoevsky ovviamente Berdiaev si trova a confrontare Dostoevsky e Talstoi come è inevitabile e spiega come ci sia una differenza fondamentale nelle loro due concezioni della vita Talstoi infatti racconta Berdiaev cerca Dio come lo cerca il pagano e da non credente cerca di risolvere il problema di Dio laddove Dostoevsky da cristiano cerca di risolvere il problema dell'uomo cioè il tuo problema il problema della tua vita è il problema dell'uomo ed è l'unico che puoi risolvere non puoi risolvere il problema di Dio senza partire dalla tua vita umana e ovviamente Talstoi si dispera perché lui vorrebbe prima sapere esattamente come è Dio prima di avere un rapporto con lui e questo è impossibile laddove Dostoevsky parte dalla sua condizione umana per arrivare a Dio e che è l'unico modo possibile ovviamente noi non abbiamo accesso alla trascendenza né a una dimensione assoluta la dimensione assoluta dell'essere umano è la morte lo spiega bene Todorov mi pare sì Todorov in un libro che si intitola La bellezza salverà il mondo ma in realtà il suo titolo originale è Les aventuriers de l'absolu che è molto più eloquente di avventurieri dell'assoluto che racconta come gli scrittori in particolare che abbiano cercato di raggiungere l'assoluto si siano in qualche modo rovinati la vita perché è impossibile per un essere umano comprendere appunto l'assoluto l'unica condizione assoluta in cui si può trovare un essere umano è la morte e la vita purtroppo invece è finita imperfetta ed è con quella che dobbiamo avere a che fare io penso che Tostoy se l'avesse capito avrebbe sofferto un pochino di meno con queste infinite disquisizioni teologiche io vi saluto spero di non avervi ammorbato troppo in questa giornata estiva niente io vi saluto e spero di rivedervi ciao ciao